Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Il botta è risposta con Garibaldi, a scatenarlo le parole del siciliano che si era detto amareggiato dal suo comportamento. Sono rimasto deluso, quando era qui dentro e io non scherzavo, lui mi diceva che ero diverso. Io sono così sia fuori che dentro la casa, non ho bisogno di creare amicizia ai fini del pubblico, non ho malizia. Non fa parte di me. I sentimenti non si decidono, le emozioni vengono da sole. La nostra amicizia è forte, ci divertiamo. Accuse alle quali Mirko aveva replicato, a me non piace l'incoerenza, mi ha detto che sono geloso perché io sono fuori e lui è lì. Per come stanno andando le cose, stare qui è un premio. Vedo malizia nei suoi abbracci con Perla, vedo incoerenza. Perla cerca affetto, lui ci vede malizia. Anche per questo era circolata la voce di un suo rientro. Adesso però Mirko ha deciso di rompere il silenzio sui social. Ho visto che tutti sapete che lunedì entrerò come ospite in casa. Mi fa sorridere perché c'è un piccolo problema. Lo sanno tutti ma io no, perché non è così. È anche abbastanza impossibile che qualcuno lo venga a sapere prima che lo sappia io. Sembrerebbe dunque che almeno per il momento Mirko Brunetti non farà ritorno al grande fratello. Ma sono in molti a scommettere che presto o tardi entrerà di nuovo nella casa più spiata d'Italia. E allora saranno scintille.